diciamo i miei fan e stiamo a registrare ciao ragazzi, ciao a tutti ragazzi io sono Ambro e se oggi se nel video che faremo su browsers con la webcam arriveremo ai ai mille like e nel mio canale in generale arriveremo a mille iscritti farò la mia prima e primissima live con questo capelluto con l'altro altro capelluto e con l'altro capelluto e con l'altra capelluta e con l'altro due capelluta PS non è vero niente faremo noi due la live la faremo anche con Leila, Omar, Giada si vabbè, facciamo un film si un film no, non faremo un film ma faremo una live in cui giochiamo tutti e tre a browsers e chi raggiunge il risultato di più coppe vince 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 e faremo con tutte le modalità lo faremo con tutte le modalità bene, però io ho un'idea faremo una sola modalità sopravvivenza in simbolo questi guadagnano tante cose eh, però io userò un piccolo trucchetto il mio account quando faremo la live vi svelerò il mio account il mio account sarà molto felice dopo la live quindi vi prego fateci arrivare mille iscritti dite agli amici a tutti quanti i vostri amici ho fatto vai a seguire questo tizio ambro ambrinini re eh fulvio picchieri ambrinini re anzi no andate a seguire dovete scrivere sui sui youtube ambrinini re cicco pro 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 fulvio picchieri ciccio più cicco cicco pro 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 non serve si perchè così ti vengono tu ti vengono tutti 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 i miei video ok allora facciamo una roba ve lo scrivo ve lo scrivo cerco di taggarvi il nome ok allora nella chat scrivete tutti hashtag hashtag mille ho fatto anche lo speciale delle duemila coppe sui sui brawli e ora voglio fare lo speciale dei mille iscritti e no 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 ma che non chiudete ma è bene ragazzi allora aia scus è soldato a noi servono i soldi scherziamo non ci fregano niente dei soldi no ci interessa soltanto farvi divertire a voi se non ci frega di diventare famosi voglio soltanto far qualcosa per farvi divertire a voi quindi cercheremo di far video con più 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 quality più visualizzazioni in modo da farvi in modo da farvi venire più video di me e di questo capelluto ed è l'altra capelluta di nome asia ecco e faremo e se arriveremo a mille iscritti faremo questa live quindi lo speciale mille scrivete scrivete due hashtag hashtag lo speciale dei mille e hashtag mille e se siete arrivati fino a questo punto del video commentate con il punto del video è mio commentate con 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 commentate con live mille e mi raccomando dovete arrivare ai mille iscritti andate da andate da media world andate su youtube e iscrivetevi al canale attivate tutte le campanelline e tutti quanti i telefoni comunque veramente è uno scherzo questa roba di media world è uno scherzo perché purtroppo non si può però ma si dai mi raccomando ai mille iscritti faremo la nostra prima live e metteremo anche il nostro supporto a un creatore veramente perché ai mille iscritti si può creeremo il nostro supporto a un creatore iscrivervi su ogni vostro dispositivo il cellulare dopo i vuoti toki l'orologio su ogni vostro dispositivo guardate sta roba non è vera cioè si è vera guardate su ogni orologio su ogni cosa su ogni tutto e per tutto dovete scrivervi non è uno scherzo questo qua è il telefono eh vedete è il telefono di mia mamma dovete scrivere questi sono veri uochi toki anche se non si può andare su youtube vabbò ha pubblicato i video fatto io io fra fra io io fra fra ai non voglio mettere il telefono di mia mamma per punti non ho eh boh ragazzi hai mille iscritti dovete farlo raga dovete farlo ciao